Di G22, che sono nati invece più per vibrafono, ma molto molto interessanti anche per marimba. Molto leggere, con la sfera leggermente più piccola, quindi con la possibilità di essere anche un pochettino più virtuosistici, e a me piacciono molto questi qui, moltissimo. Sono molto, molto, ti danno molta possibilità anche nella velocità. E rendo uno suono molto pieno. Grazie a tutti.